A riposto si tornerà in Consiglio Comunale giovedì prossimo per tornare a discutere sul regolamento per la raccolta differenziata. Così come è avvenuto due giorni fa su mozione scuola e regolamento di contabilità, anche sulla differenziata, procedura richiesta dai comuni da un'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, Dursiani e Gruppo Caragliano potrebbero creare una convergenza. Su questa cosa ci sta cominciando a lavorare l'assessore Antonio Di Giovanni, che un mese fa, davanti all'ostruzionismo delle minoranze sulla proposta della raccolta differenziata, abbandonò l'aula per protesta. Anche se in vista del 2018 Enzo Caragliano e Carmelo Durso stanno lavorando a progetti diversi, che saranno posti all'elettorato ovviamente in contrapposizione, adesso si può entrare in una fase politica in cui farsi la guerra non serve a nessuno dei due. Enzo Caragliano sa di non avere numeri in Consiglio ed è cosciente che la coppia Durso-Bergancini può imbrigliare l'attività amministrativa in qualunque momento. Carmelo Durso, dall'altro lato, vuole impedire a Ezio Reciti e Sarocerra di essere determinanti nelle votazioni in aula e per questo adesso comunque deve concedere una minima apertura all'attuale primo cittadino, pur nel rispetto dei ruoli. Tutto questo alla vigilia di una sessione di bilancio sempre più delicata.